Un saluto dal Tg della Mobilità avanzano i lavori di riqualificazione dei San Pietrini di Piazza Venezia e Piazza Raceli. Per lasciare spazio al cantiere le linee 51 e 85 provenienti da Via del Corso da Piazza Venezia deviano su Piazza San Marco, via San Venanzio, Piazza Venezia e via dei Fori Imperiali, da dove riprendono il normale itinerario. E all'Eur si è ridotta l'area di Cantiere Eterna su Viale dell'Arte, nel tratto tra Via l'America e Via l'Europa. Ripristinati dunque i percorsi e fermate delle linee di bus Roma TPL 771 e 789 e di altre sette linee ATAC, oltre che alla notturna NMB e della C7, quest'ultima in strada al sabato e nei festivi. Per ora è tutto, appuntamento alla prossima edizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.